Cento candeline spente in un soffio a sorridere e ringraziare tini immediatamente per gli aguri e Paola Sorce di Favara. Cento anni compiuti ieri, festeggiati tra l'affetto dei familiari, un importante traguardo per la bisnonna di Favara, mamma del giocatore di Serie A, oggi allenatore Totovullo. Un compleanno che Paola Sorce ricorderà sicuramente, celebrato dall'affetto della sua numerosissima famiglia, una nutrita schiera fra figli, nipoti e bisnipoti che abbraccia almeno tre generazioni. Adesso linea alla regia per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria. Tra poco vi aspetto.